Pubblico di Torino Scienza, buongiorno, come state? Mi presento, mi chiamo Silvia De Francia, sono una ricercatrice in farmacologia, lavoro al Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell'Università di Torino. Ecco, per lavoro io faccio farmacologia clinica, cioè mi occupo dell'ottimizzazione delle terapie in pazienti affetti da diverse patologie. Il Sistema Sanitario Nazionale non mi richiede di refertare però in ottica di genere, sebbene ci sia una recentissima legge, la legge 3 del 2018, che spinge come piano di diffusione della medicina di genere ad adottare il parametro genere negli studi di sperimentazione preclinica dei farmaci, ad esempio anche negli studi di sperimentazione clinica dei medesimi e non soltanto, anche negli studi di epidemiologia delle malattie. Quindi la farmacologia di genere nel mio campo per ora è ancora relegata all'ambito della ricerca, all'interesse personale. Ho accolto comunque con grande gioia l'invito di Torino Scienza a dare una spiegazione sul motivo per cui, spinti ovviamente dall'osservazione della realtà e visto che non solo esiste la farmacologia di genere ma anche la medicina di genere e possiamo ben pensare ad un'infettivologia di genere dunque. Quindi dicevo osservando i dati della realtà a dare una spiegazione su per quale motivo di fatto il coronavirus abbia una maggiore incidenza nella popolazione maschile rispetto a quella femminile. Beh intanto una risposta di tipo biochimico. Negli uomini è molto più presente un recettore, l'ACE2, che si occupa della conversione dell'angiotensina 1 in angiotensina 2. L'angiotensina 2 peraltro è una glicoproteina utile nella regolazione della pressione arteriosa. Ecco questo recettore, questo enzima molto più presente negli uomini, spalanca le porte all'ingresso del virus. Quindi la ragione biochimica per cui tale virus sembrerebbe essere molto più frequente nella popolazione maschile è che può entrarvi più facilmente e può più frequentemente infettare le cellule del corpo maschile. Poi però dobbiamo fare un ragionamento diciamo di tipo un po' più generale, non solo specifico dal punto di vista biochimico, perché il sistema immunitario delle donne, ciò si evince già dai dati che caratterizzano la prima infanzia femminile, è molto più forte rispetto al sistema immunitario maschile. Le donne resistono di più, all'attacco e meglio si difendono, all'attacco di virus e di batteri. Le donne realizzano un maggior titolo anticorpale, ad esempio in seguito alla somministrazione dei vaccini. Per contro però le donne possono sviluppare molto più frequentemente patologie di tipo autoimmunitario, pensiamo alle varie tiroiditi o all'artrite reumatoide, ad esempio. E al di là del sistema immunitario, quindi della considerazione di come esso funzioni in modo diverso per genere, dobbiamo anche considerare la componente ormonale. Il testosterone è l'ormone tipico della popolazione maschile e funzionalmente un immunosoppressore, mentre gli estrogeni, gli ormoni che caratterizzano la popolazione femminile, sono degli immunostimolanti. Ed è proprio vero che quando in menopausa la donna subisce un forte, un drastico calo di estrogeni, allora le difese immunitarie si abbassano e la popolazione maschile e quella femminile si avvicinano un po' di più. Infine una considerazione dal punto di vista genetico. Le donne sono XX, lo sappiamo, gli uomini XY. La maggior parte dei geni che codificano per delle proteine utili e funzionali nell'ambito delle risposte immunitarie, si trovano sul cromosoma X. Quindi la donna ha due copie dal punto di vista genetico che può sfruttare peraltro con grande mosaicismo per rispondere e per far funzionare il proprio sistema immunitario, sviluppando così delle risposte decisamente più forti e più intense rispetto alla media delle risposte del sistema immunitario maschile. Ecco, spero di non essere stata troppo noiosa, spero di essere stata chiara. Vi abbraccio, un caro saluto, a presto.